Un convegno su una tematica un po' trascurata ma molto importante secondo il nostro avviso, cioè l'agricoltura, il futuro dell'agricoltura in sostanza. L'agricoltura si può fare con metodiche molto moderne e proponiamo appunto questo approccio nuovo all'attività agricola mediante la radionica, la radiestesia e l'omeopatia. Sono tematiche sicuramente che dovrebbero interessare anche il grosso pubblico perché alla base di questa attività sta un rispetto ambientale, un aspetto ecologico e soprattutto una grande, una grossa influenza poi sull'alimentazione. Infatti la tematica sarà agricoltura e alimentazione. I relatori sono di grosso spessore, gli argomenti vengono trattati con ottiche diverse da relatore a relatore e quindi io spero che l'argomento possa suscitare uno stimolo soprattutto per portare avanti un discorso nuovo nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto della salute perché il compito principale poi nostro è quello di avere un'influenza positiva sulla salute cercando di stimolare iniziative nel confronto dei produttori agricoli. Sono la professoressa Lucetta Betti del Dipartimento di Scienze Agrarie della Università di Bologna e oggi presenterò in questo convegno una delle sperimentazioni che abbiamo fatto presso il nostro Dipartimento e che riguarda l'utilizzazione di preparati omeopatici in agricoltura. Sono tantissimi anni, più di vent'anni, che ci interessiamo di questo argomento e i risultati finora ottenuti sembrano promettenti. In particolare oggi presenterò una sperimentazione riguardante il cavolfiore in cui abbiamo cercato di effettuare il controllo dei patogeni e anche tutta la cultura utilizzando dei preparati omeopatici. I risultati ottenuti sono stati molto promettenti, cioè siamo riusciti a ottenere un controllo di uno dei funghi più pericolosi per la cultura del cavolfiore, cioè l'alternaria, e anche la qualità stessa dei cavolfiori raccolti si è dimostrata migliore rispetto a quelli trattati con rame, che è il trattamento tipico che si usa in agricoltura contro questo patogeno e anche da un punto di vista del nutraceutico questi cavolfiori si sono dimostrati migliori per l'alimentazione umana perché più ricchi di antiossidanti e quindi sostanze che fanno sicuramente bene a chi li consuma. Questi risultati sembrano promettenti e speriamo che questa tecnica chiamata agromeopatia possa sempre più prendere piede. Io mi chiamo Olga Kokornacek e sono del gruppo di ricerca di Lucetta Betti. Noi lavoriamo alla Università di Bologna su un metodo che si chiama l'evaporazione delle gocce. È un metodo basato sulla cristallizzazione che attraverso il processo di auto-organizzazione delle particelle crea delle forme complesse e la complessità, regolarità e simmetricità di queste forme ci dà indizi sulla qualità di campioni che analizziamo, cioè campioni di cibo e prodotti agroalimentari e anche prodotti omeopatici. Oggi presenterò i risultati che riguardano questo metodo. In particolare abbiamo analizzato il vino biodinamico, biologico e commerciale mediante il metodo dell'evaporazione delle gocce e abbiamo trovato delle differenze di qualità che sintetizzano che il vino biodinamico ce l'ha delle proprietà di qualità maggiore rispetto a quello biologico e quello biologico rispetto a questo convenzionale. Ecco abbiamo parlato dell'importanza dell'alimentazione e dell'agricoltura biologica oggi che abbiamo un mondo così fortemente inquinato in cui gran parte dell'abbondanza in realtà è fatta con tecniche agricole soprattutto fortemente industrializzate dove sembra che conti soltanto la quantità e non la qualità del cibo rende in realtà il cibo cosa relativamente rara ed è una cosa curiosissima che proprio in un mondo come il nostro sia raro il cibo sembra una contraddizione in termini e per certi versi lo è. Allora un cibo che è stato prodotto, quindi coltivato con metodo biologico non ha usato chimica di sintesi, quindi non ha usato concimi chimici, non ha usato diserbanti, non ha usato fitosanitari o pesticidi e comunque presenta un prodotto altamente buono, bello, con caratteristiche organolettiche eccezionali. Questo prodotto ovviamente è ideale per l'alimentazione, per dei bambini ma degli adulti eccetera. Questo cibo è esente da sostanze chimiche di sintesi, non ha le controindicazioni che un prodotto, anche se contenuto per legge, ha comunque delle sostanze che modificano le sue caratteristiche organolettiche. Ora approfondire questo argomento ovviamente in pochi minuti non è possibile, però potete tener conto che in genere quando c'è un trattamento chimico nella frutta ad esempio questo riduce la presenza di vitamina C del 50%. Allora può capitare benissimo che la frutta che ha un certo valore nel mercato abbia più di tre trattamenti chimici. Ebbene noi non avremo più vitamina C e al posto della vitamina C troveremo residui di sostanze chimiche. sostanze chimiche che ovviamente sono fatte in genere per o far aumentare la quantità di liquidi nel frutto o per eliminare parassiti, quindi che ha una funzione proprio dichiarata antiparassitaria o simile. Di conseguenza quindi a lungo andare per una vita intera tutte queste sostanze che spesso si rivelano cancerogene, tetratrogene, quindi chiaramente che modificano le cellule e coincidono moltissimo sulla salute della popolazione. Ora se noi tenessimo conto e facessimo un conto complessivo di cosa vengono a costare le due agricolture, cioè quella biologica fatta secondo la natura, secondo quello che la natura impone e quello invece convenzionale fatto con un'agricoltura fortemente chimicizzata ovviamente è l'agricoltura chimicizzata che ha un costo pauroso che consuma una quantità enorme di energia per produrre una quantità limitata di energia però tutto questo c'è permesso perché fino a che noi sfruttiamo l'energia a basso costo ovviamente questo c'è ancora permesso però i costi ambientali di depurazione dell'acqua, di depurazione dell'ambiente di malattie sempre più gravi che si stanno diffondendo nella popolazione ecco se noi facessimo il conto di questi costi ovviamente la sproporzione economica sarebbe evidentissima. La possibilità di approfondire questi argomenti e quindi di approfondire la conoscenza su questi principi ovviamente che non possono essere trasmessi con facilità in pochi minuti ma richiedono certamente un aumento della conoscenza ecco chi vuole può approfondire questi argomenti o nella nostra rivista che pubblichiamo come Associazione Culturale della Biolca e pubblichiamo il Biolcalenda che è questa rivista mensile che anche pubblica il calendario delle semine secondo il principio biodinamico oppure anche via internet andando su www.labiolca.it e quindi là può prendere contatto con le nostre strutture informative ed può tranquillamente approfondire queste conoscenze. Grazie a tutti.